E' partito da Mussomeli per Cartanissetta ieri di buon mattino, accompagnato dalla figlia Lisetta Giardina e i nipoti Mariella, Lino e Giuseppe per recarsi in prefettura ed essere presente alla cerimonia di consegna della medaglia d'onore conferitegli dal Presidente della Repubblica, ciò in occasione delle iniziative celebrative della giornata della memoria. Sei medaglie d'onore consegnate, di cui quattro medaglie d'onore in memoria. Due degli insigniti sono tuttora viventi, il novantasettenne mussomalese Calogio e Giardina, che l'ha ritirata personalmente dalle mani del prefetto Maria Teresa Cucinotta, ed il ballenunchese Domenico Gaeta, che non l'ha potuto ritirare per motivi di deambulazione, ritirata invece per suo conto dalla nipote Liboria Gaeta. Le medaglie d'onore in memoria sono andate a Giuseppe la Rosa di Riesi, Salvatore Terranova di Riesi, Paolino Salamone di Suttera e Salvatore Giugiusa di Mazzarino. Presenti i sindaci di Mussomeli, Vallelunga Pretemeno, Suttera, Maderina e Rieti. Presenti anche i due rappresentanti dell'ambi Mussomeli, Tonino Calà e Francesco Amico. Presenti i sindaci di Suttera, Maderina e Riesi, Suttera, Maderina e Riesi, Salvatore Terranova di Riesi, Salvatore Terranova di Riesi. è stata più bella da consegnare, più emozionante. Grazie. Grazie.